Buongiorno a tutti, oggi parleremo delle domande di assegnazione provvisoria e utilizzazione per l'anno scolastico 2021-2022. Vi ricordiamo che dal 15 giugno, cioè da oggi, fino al 5 luglio sarà possibile compilare e inviare la domanda di mobilità in organico di fatto. Ci sono delle novità, vedete qui il Ministero ha preparato proprio la presentazione della domanda in mobilità in organico di fatto in un unico modulo, che è questo che troverete su istanze online. Andando a vai la compilazione, si entra nel presentare la domanda, ci sono da selezionare le informative sulla privacy e una volta letto e accettato i termini e le condizioni legali, si può fare avanti cliccando sul tasto avanti. Cliccando sul tasto appunto avanti si entra nell'anagrafica del docente, facendo ancora avanti si entra in questa area, presentazione della domanda di mobilità in organico di fatto del personale docente per l'anno scolastico 2021-2022. Le domande disponibili per ogni docente potranno essere selezionate da questo menu a tendina dove ci saranno tutti gli ordini di scuola di riferimento, per esempio facciamo un esempio della scuola secondaria di secondo grado e appunto verranno le tre possibilità o assegnazione provvisoria provinciale o l'utilizzazione provinciale, e dunque si fa inserisci, o l'utilizzazione interprovinciale scegliendo un'unica provincia. Anche per l'assegnazione provvisoria si andrà a scegliere un'unica provincia, per esempio noi scegliamo quella di Reggio Calabria. Facendo inserisci entriamo proprio nell'area della compilazione della domanda, vedete è tutto nuovo, ci saranno tre situazioni che andranno compilate con priorità, prima la domanda, poi le preferenze e in fondo gli allegati. Per la domanda vediamo le sezioni B, F, G1, G2, H, M. Quella H, c'è la tipologia di posto, è diciamo assolutamente obbligatoria, ma obbligatoria è pure quella F perché c'è proprio la questione del ricongiungimento che può essere al coniuge o al convivente o alla parte di unione civile o al familiare nel comune di, si sceglie il comune, per esempio io vado a scegliere il comune di Reggio Calabria. Seleziono, ecco che ho scelto il comune e poi posso andare avanti perché basta il ricongiungimento. Poi la sezione H chiaramente è fondamentale e si va a scegliere il tipo di posto, se è un posto di sostegno, se si chiede per il sostegno, ma se è un posto normale, nel caso mio un posto normale. E poi il docente se è in possesso del titolo di specializzazione nel caso del sostegno, vedete. Oppure c'è la sezione M che è riferita alle abitazioni, alle classi di concorso. Si può fare, anche c'è una questione anche sulla tipologia di posto, ma anche ci sono le altre indicazioni che possono essere inserite. Vedete, c'è nella casella 25 una particolarità, una novità, il part time, con il relativo numero di ore. Chi è in part time, nella casella 25 deve rispondere sì alla domanda e mettere per esempio 9 ore, 12 ore, quante ore ha di part time, diciamo il part time è richiesto e ottenuto. Dopodiché si salva la domanda e la domanda, vedete, è effettuata con successo. Dopodiché si apre la possibilità di passare alle preferenze e così via. Comunque rimandiamo a oggi pomeriggio, alle ore 16, in una diretta dove andremo a specificare molte delle questioni per la presentazione della domanda dell'assegnazione provvisore. Diretta live nei canali YouTube e Facebook di Tecnica della Scuola, la trasmissione avrà il titolo Utilizzazione e assegnazione provvisoria, chi può partecipare. Vi attendiamo oggi pomeriggio per la nostra diretta. Grazie e arrivederci.